Allora, siamo qua con il maestro Thomas della Thai Box Liceum che ha portato un suo allievo a combattere e diciamo che è stato il debutto più bello diciamo in assoluto. Cosa puoi dire rispetto al match, Thomas? Buonasera a tutti, sono Thomas Poggi, maestro di Riccardo, vicepresidente, raffinistica monopartia. Niente, sono qui con il maestro Dario Rossi e oggi mi ha portato il debutto Riccardo che ha avuto un mese di palestra. Direi che è andato abbastanza bene. Sei soddisfatto del suo risultato? Soddisfatto, anche se c'è da correggere, diciamo qualche cosina, però comunque... Senti, come posso vederlo a tue spalle, oggi che la giornata è veramente, è stata incredibile e ricca di persone. Poi soprattutto anche di match, ci sono stati colpi di scena, tra cui ovviamente quello del tuo allievo che come debutto non poteva andare meglio. Senti, prossime date previste, diciamo, visto che è incominciata? Prima di marzo e poi ci sarà, ad aprile, sarebbe sempre quando c'è la birra, un match più lungo che risolvere un giorno. Ah, diciamo che allora sarà una sorpresa. Senti, allora, per te com'è andata come giornata? È stata vaticosa? Come è stato? Dai come al sole, come ai soli. Allora, abbiamo visto in giro di Naldi che è preso appunto per fare il matchmaker, quindi devo dire che è stato un lavoro molto intenso quello di oggi. Il lavoro, diciamo, più intenso è il primo, è molto il primo anche dei dibattimenti, non c'è molto da fare, diciamo, fare affinamenti, chiamare maestri. Piano, senti Riccardo, le tue pressioni rispetto al match? Sei contento della vittoria portata a casa? Allora, noi ti ringraziamo per l'intervista che avete rilasciato e vi aspettiamo al prossimo evento FISCAM e vi aspettiamo soprattutto numerosi. Ok, grazie a tutti!